Cristo Fordis e Nabiyev, Nabiyev Kamil dell'Azerbaijan Cene sale, 75 kg Giovanni chiede la misura 76 kg Quindi evidentemente partenza per garantire la sicurezza di rimanere in gara senza troppi impatevi Nel cere passa a Cristofo Doris Scusate, Nabiyev della Zerbaijan Kamil Nabiyev, non riesce nel sollevamento Nabiyev L'atleta della Zerbaijan C'è una situazione emergente Cerca di farci la permanenza in gara E dopo tentare l'alzata Per guadagnare qualche posizione classifica Rapida concentrazione di questo atleta Caricamento, stacca bilanciere in questo momento In questo momento Bene, bene per Nabiyev Lascia fuori dalla pedana Tutto quello che gli ha impedito di sollevare Una volta precedente Quindi la fretta, l'emozione E magari anche la paura di sbagliare Abbiamo visto un altro atleta Può essere anche che decida Per qualche altra misura 25 secondi Ancora a disposizione di Nabiyev Per staccare il bilanciere dal suolo Dalla pedana Qua un citamento dagli spalti Dai tecnici Tutto serve A portare a casa l'alzata Abbastanza dubbia Vediamo cosa ne pensano gli ufficiali di gara Godleaf Invece per loro è tutto Nabiyev Che lo ha preceduto Nella sessione degli strappi Con 80 kg E quindi Facciamo una piccola gara nella gara Con la teta dell'Azerbaijan E il nostro Il nostro Giovanni 95 kg Pronti per essere sollevati In questo momento Dall'atleta A zero Con un po' di concentrazione Stack Tirata Girata Niente da dire Questa prima fase Del sollevamento Buona anche la seconda parte E arriva lo che degli arbitri Rivediamo l'alzata Buona la spinta La tenuta Insomma Fissaggio sopra la testa Anche qua Tendiamo In pedana Kamil Nabiyev Azerbaijan 80 kg di strappo per lui In precedenza E prova Prova questa misura 100 kg In secondo tentativo Secondo dei tre A disposizione Il silenzio In Sede gara Ultimi dettagli Per concentrazione Direi che Prima parte Convincente Vediamo se la spinta Ci darà Stesso Risultato Infatti così è L'alzata netta E L'atleta Porta a casa Porta a casa Il risultato Vediamo Giovanni ci riprova Con la stessa misura 100 kg Adesso vediamo Se ha fatto Troppa tensione Si Si approccia Bilanciere Si viene staccato Dopo qualche caricamento In questo momento Buona Prima parte Della girata Caricamento E spinta 1-2 Efficace Per la prida D'Azerbaijan Buona Buona Lazzata Siamo ancora Lontana Per la prida Per la prida